Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di minecraft, io sono bella faccia e bentornatissimi Allora, avete già lasciato un mi piace? Io spero proprio di sì perché oggi nella vani in l'hardcore ne vedremo di ogni Guardate, qui sotto la farm di legno è spawnato il nostro carissimo mercante e guardate cosa commercia Oh mio dio, commercia lo speleotema puntito, cioè ragazzi questo non si trova in questo momento Non si trova, me l'avevate detto voi che io potevo commerciare i nuovi blocchi, le nuove cose tramite il mercante Allora, andiamo subito a cercare degli smeraldi, mi raccomando ti prego resta qua, non andare assolutamente da nessuna parte Ho bisogno, ho bisogno di quell'oggetto, è ultra bello, allora ti prego ti prego ti prego ti prego Dammene un po', dai dov'è che li ho messi? Non dirmi che non ci sono più qua 48, dai, andiamo Mamma mia non ci posso credere il nuovo blocco a gratis così Mercante, eccomi, vai, ci siamo Sì, dieci Nuove ricette sbloccate, controllo il ricettario, oh mio dio No, dammene altre, ti prego, ne voglio di più Per favore, se ti commercio queste altre cose Se ti commercio tutto Ti prego Per favore, guarda, ti compro tutto Rivorrei questo Mio dio, guardate Oh mio dio Se guardate che roba Ma che bello Ai, oh, ma fa male Ai, ma fa malissimo Ok, allora prendiamolo Con tocco di velluto, mi raccomando Ok, guardate che bello Allora, questo dovrei riuscire a metterlo anche qua Però no, oh, diventa più grande, non ci credo Guardate che bello Ragazzi, potremmo fare una struttura Di un mostro Con questi denti Ma vi immaginate? Ok, riprendiamo No L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso Ok, per favore, dammene altri Me ne puoi dare altri? Ti prego, guarda Ti commercio tutto Ti commercio tutto quello che vuoi Ti vado a prendere altri sberaldi Ti commercio tutto Rimani qui, per favore Mio Dio, l'oggetto più raro di Minecraft È introvabile Cioè, è introvabile trovare Diciamo Il mercante Che ci commercia questo blocco Io vi sfido Secondo me pochissimi hanno avuto Quest'occasione Di riuscire a commerciare questo Lo speleo Sì, quel coso Ok Zucchero Hai visto degli smeraldi? Smeraldi, smeraldi Da quanto è che c'è quello standardo? Non ricordavo di averlo messo lì Allora, smeraldi Ok, ce ne sono pochi ovviamente Gli ho messi sicuramente qua Perché ho commerciato un sacco con i villager Ok, sì Ok, prendiamone un bel po' Direi che possono bastare Ok, dovrò sicuramente ricommerciare Con i miei villager Però non c'è problema Tanto di smeraldi infinite ne ho un sacco Sto arrivando Mercante, dove sei? Io vorrei tanto tenerti Ma tu scompari sempre Anche con la targhetta Dai Commercia tutto Anche questi pesci palla stupidi No, quelli sono miei Per favore, ok Dai Rivolgo questi, per favore Per favore Rivolgo quelli Me li puoi dare Per favore Non me li da più ragazzi Non me li vuole più commerciare Non ha più niente I tuoi lamano qualcosa? Ok, perfetto Siamo riusciti Ad ottenere questo blocco No, non è un blocco È una punta Diciamo È una punta Comunque sia Sono riuscito a portare Anche i miei Hoglin Mi raccomando Scrivete anche i nomi Di loro due E si aggiungeranno Al nostro parco Dei divertimenti Di bella faccia Proprio così Ugo e Brizola Avete dato Avete dato Il benvenuto A Zoe E al nostro piccolino Eh Penso proprio di no Sono ultra cattivi È meglio andare via Ok, ok, ok Perfetto Perfettissimo ragazzi Siamo riusciti ad ottenere questo Chissà cosa possiamo fare Io Penso Avevo visto Che si poteva fare Una spese di farm Di lava È possibile E se possiamo fare Una farm di lana Eh di lana Sì di lava Perché non provarci Wow Che bello Comunque sia Fantastico Chissà se Io vorrei trovare Altri mercanti Perché me ne servono Di più di questo Speleotema Vorrei più Speleotema Speleotema Allora Dove lo possiamo mettere Qua Negli oggetti rari Guardate che belli Wow Quante cose Che abbiamo trovato Speleotema Ma che bello è ragazzi È fantastico Comunque sia Sto farmando Ero qua Perché stavo farmando Veramente Tanto legno Stavo farmando Veramente tanto legno Con la mia Super farm Di legno Pam 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 Ve la ricordavate Tan 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 Dai fai vedere Come sei brava Sì così Vi stavo dicendo Ne sto farmando Veramente Oh Ne sto farmando Veramente tantissimo Perché in un prossimo Oh sono piccolino In un prossimo video Forse domani uscirà Volevo creare Una cosa incredibile Che ovviamente Non vi posso dire adesso Perché è una cosa Top secret Però guardate Eh Sto farmando Veramente tantissimo Legno E quindi mi merito Una pausa Eh giochiamo a calcio Non c'è nessuno Che vuole giocare a calcio Con me Allora sapete cosa facciamo Voglio fare una mini missione Voglio fare una mini missione All'avventura Scopri tutti i biomi Due pizzoni con una fava Uccidi almeno ogni mostro Forse devo uccidere Zoe Non voglio uccidere Zoe Io volevo provare questi Un gatto Fai copiare due animali C'è questo Dieta equilibrata Cioè io voglio fare La dieta equilibrata Vaggia tutti gli oggetti Commestibili Anche quelli Non proprio salutari Ok 18 su 40 E quali sono questi oggetti Occhio di ragno forse Vediamo Siamo a 18 Su 40 Ok Questo non me lo fa mangiare Perché ovviamente Non ho la barra del cibo bassa Per favore Fammi andare la saturazione giù Per favore Fammi andare la saturazione in basso Che cosa può mancare Poi la carne marcia Penso di averla già mangiata Le bacche Le bacche Stufato di conigli Zuppa sospetta L'ho mai mangiata la zuppa sospetta qua? Non lo so Proviamo Proviamo anche questa Allora questo 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 Poi che altro Coniglio crudo Forse intende anche le cose crude Cioè Probabile Che intende anche le cose crude Non lo so Qua niente Qua niente Qua Soffio di drago Non penso Il quarzo non è commestibile Il pane Il merluzzo Che altro Pollo? Non lo so Facciamoci andare giù Le saturazione Patata velenosa Barbabietola cruda Così Altro Il miele Magari il miele Non l'ho mai bevuto Buonissimo Vediamo Sì Uno era il miele E vai 19 su 40 Spero che ci riusciremo Prima o poi Allora Come fare A far venire La saturazione Anzi Come fare A farti venire fame Se non picchiando i mostri Ragni Ragnetti Allora le ossa ovviamente Non si possono mangiare L'occhio di ragno fermentato Secondo me Una cosa che non ho fatto È l'occhio di ragno fermentato Che si faceva con lo zucchero Mi raccomando A tutte le mamme Se volete cucinare L'occhio di ragno fermentato A me le orecchie Allora Serviva Delle ossa Servivano Ci abbiamo delle ossa Pesce palla Forse non ho mai mangiato No Non si può Una volta si poteva Mangiare così Mi sembra Poi che altro Il favo si può mangiare No È veramente difficile Sta missione Comunque Allora Vediamo L'occhio di ragno fermentato Serviva lo zucchero Zucchero Che ci facciamo con questo Ok Quindi Zucchero E serviva un fungo Un fungo Un fungo Dai Non mi dire che non abbiamo i funghi Cioè non ho Non ho i funghi Non hai i funghi Bella faccia Ma dove cavolo Funghi Ma dove sono Ma non avevo poi una farm di funghi Cavolo Perfetto Perfettissimo Allora vediamo Siamo a 19 Mangiamo Oh Avvelenamento Questa zuppa Faceva veramente schifo Parca miseria Vediamo 20 su 40 Sì E vai Non avevo mai mangiato una zuppa Sospetta Ti ringrazio zuppa Basta con questo veleno Alga Possiamo mangiare un'alga Penso di sì No Non possiamo mangiare un'alga Perfetto Che cavolo rimane Vediamo Cosa può rimanere Proviamo a mangiare Una bacca No Volevo mangiare la bacca dolce Io volevo mangiare la bacca Allora mangiamo l'occhio di ragno Ecco vai Che bello oggi Ci avveleniamo 21 su 40 Ce la stiamo facendo Patata velenosa Ovviamente non ho più fame Ok ce la sto facendo Pensavo che fosse più difficile Ma non è così Mi servono dei funghi Per piacere Dei funghi Grazie Mi faccio una bella Zuppetta Zuppetta Anzi un bel Occhio di ragno No l'occhio di ragno Ci sono dei ragni Ci sono dei ragni Che vogliono diventare Dei ragni succosi Uuuu Attenzione un creeperino Eeeh Beccati Oh tre Tre contemporaneamente ne ho presi Beccati questo Non ci provare Hai capito? Grazie Per avermi Droppato gli occhi di ragno Ma vattene via Occhio di ragno Fermentato Si potrà mangiare? Boh Allora per perdere la fame Dammi Mi devo fare anche la sala Delle pozioni Eh bella faccia Ti devi fare anche la sala Delle pozioni Perché non le hai Servirebbe per perdere Un sacco di fame Camminare velocissimo Qua nel tunnel Allora mangiamo questo Allora vediamo Siamo a 21 su 40 No questo non si può mangiare Cavolo che spreco Patata velenosa Eeeh Oggi mi avveleno in continuazione Eeeh 22 su 40 Perfetto Perfettissimo Ok So come perdere la fame Ho capito come perdere la fame Ragazzi Proprio così Ovviamente A guardare queste torte Viene fame Eeeh Allora le posso Per Posso perdere Un sacco qua Correndo ultra veloce Vediamo Dai fammi perdere la fame Per favore Ok Andata giù Vediamo Siamo a 22 Vediamo Coniglio crudo 23 Perfetto Le cose crude Non ho mangiato Ecco Come le barbabietole Magari Se si può mangiare Dai Fammi perdere Fammi perdere Mamma mia Queste si che sono le missioni Più difficili di minecraft Comunque sono contentissimo Che ho trovato Quel nuovo blocco Quel nuovo Come posso dire Quelle stalagmiti Stalactiti Fatemi sapere come possiamo utilizzarle Perché secondo me Verranno delle costruzioni Veramente carine Dai fammi mangiare altre cosine Fai mangiare altre cosine Per favore Vediamo Siamo a 23 Dai 24 Ti prego Sì 24 Perfetto Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mamma mia Abbiamo trovato Il nuovo Incredibile blocco Di minecraft Che non è proprio un blocco Però è ultra raro Stiamo completando Tutte le missioni Impossibili Di minecraft Queste sono già tutte finite Cioè voglio finirle Non le ho mai finite In vita mia Io spero Che il video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi Ah E quasi dimenticavo una cosa Mi dimenticavo la cosa Più importante del mondo Aspettate un po' Cioè veramente Mi stavo per dimenticare La cosa più importante del mondo Eh Tu ti devi togliere Ti devi togliere Dalle scatole Avete farmato la lana Vabbè In caso Mi prendo questa Avevo dimenticato Che è arrivato il momento Di aggiungere Finalmente Un altro blocco Un altro Come posso dire Livello della pozione Perché abbiamo raggiunto Gli 800 mil iscritti E io non smetterò mai Di ringraziarvi ragazzi Ok Togliamo questo A breve Arriveremo a un milione L'ampolla si riempirà Ok Riempiamo Riempiamo tutto Così Perfetto Non ci bastano Nemmeno i blocchi Ne devo andare a prendere altri Non si può finire così Oh ma ve ne andate Ve ne andate Maledetti mostri Ve ne andate Non siete benvenuti Non siete benvenuti qua Oh cavolazzo Ma ve ne andate Ma ve ne volete andare Mamma mia Il giallo Solo uno Io mi auguro per voi pecore Che Fate funzionare questa farma Altrimenti mi arrabbio Seriamente Vabbè Facciamo così Lana gialla E andiamo Ed ecco qua Ci siamo ragazzi Siamo a livello 8 A breve Arriveremo a livello 10 E succederà una cosa incredibile Io vi auguro una fantastica giornata Aspetta Aspetta un po' Possiamo mangiare qualcos'altro Possiamo mangiare qualcos'altro No Per ora no Da bella faccia è tutto Ci vediamo un prossimo video Non mancate che v'aspetto Ciao 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 Grazie a tutti.